Ciao a tutti da Salutatore, eccomi qui con una grandissima attrice Loredana Cannata Ciao, ciao a tutti, vi saluto, Salutatore Ecco, lei è molto social, molto presente anche sul social network, salutiamo tutti gli amici di Youtube, Facebook e Twitter Sì, anche perché noi sui social possiamo dire fare quel che ci pare, non dobbiamo aspettare che altri decidano che cosa si può pubblicare Quindi viva la rivoluzione che stiamo vivendo digitale Grandissima, ricordiamo i tuoi canali Io sono molto attiva su Facebook dove ho il profilo e la pagina ufficiale, poi anche su Twitter, Instagram, ma ancora su Instagram un po' meno perché ci sono solo immagini A me piacciono anche le parole, comunque ci sono, le gestisco personalmente e quindi rispondo anche, ovviamente non sempre, non a tutti perché ci sono dei momenti in cui devo anche lavorare Ed è giusto, e io confermo perché gli iscrissi tanto tempo fa e lei mi rispose È vero, e tanti lo possono dire, tanti hanno avuto le mie risposte Grande Loredana, un saluto a tutti dal Salutatore e grandissima Loredana Ciao 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 Ciao